Pronto? E' pronto, buonasera, potrei parlare con Renata per cortesia. Chi la desidera? Sono Francesco. Un attimo. Grazie, molto gentile. Pronto? Pronto, Renata? Pronto? Renata, mi senti? Sì? Ciao, come stai, Renata? Pronto? Pronto, mi senti? Tutto bene? Chi è che parla? Sono Francesco. Francesco? Non ti ricordi? No. Come no? Ci siamo incontrati due settimane fa. Ma dove? Ma come dove? Insomma, adesso al telefono non è che mi va di dire certe cose, insomma. Guardi, che io mi spiace, ha sbagliato. Abbiamo passato una notte fantastica. Ah, ma beh, ma penso che lei abbia sbagliato, perché io di notte fantastiche non ne ho passate nessuna. Ma scusi, non è la signora... Non è la signora Renata?